Sì, c'è da nuovo, risposta, c'è quasi, salvo, buongiorno, agenziaggi, si certo, va bene, Zerpe ci vediamo dopo, adesso sinistra, ok, ci racconta un po' qual è stato il tema dell'incontro, immagino i fondi, il fatto venire da Calabria, abbiamo fatto un punto importante alla luce della firma del Presidente del Consiglio due settimane fa del patto con la città di Reggio Calabria e stiamo aggiornando in corso d'opera tutti quelli che sono gli impegni che ci siamo presi e che vogliamo realizzare nei tempi che abbiamo detto. Sottosegretato, 133 milioni, come difendersi dall'attacco dell'Andrangheta che sembra voler mettere le mani anche su Reggio, città metropolitana? Facendo le cose per bene, in maniera trasparente, facendo capire ai cittadini che siamo qui a fare il bene della città di Reggio Calabria perché vogliamo che le cose cambino anche qui e che finalmente si possano vedere i risultati degli impegni presi. La partita di calcio del poveriggio? Una bella occasione per parlare di legalità e per fare due corsi, dai! Grazie, arrivederci!